Un'auto tampona un trattore e per poco non si sfiora la tragedia. Incidente questa mattina sulla statale 16 Bistra, San Ferdinando di Puglia e Cerignola. Un trattore ed un'automobile sono i mezzi coinvolti, mentre due persone sono state ricoverate in codice rosso a Barlette e Cerignola. Sul posto sono intervenuti gli uomini della polizia di Cerignola. La strada è rimasta bloccata per qualche ora con code chilometriche fino allo svincolo San Ferdinando-Ovest, che conduce Trenitapoli. Paura per la dinamica dell'incidente, ma fortunatamente è stata evitata la tragedia. Secondo una prima ricostruzione dei fatti, pare che una lancia bianca si sia scontrata contro il mezzo per poi ribaltarsi. Sul posto, il nucleo operativo radiomobile di Cerignola, la polizia municipale e quattro ambulanze del 118, che hanno trasportato i due pazienti in codice rosso, uno all'ospedale di Miccoli di Barletta e l'altro al Giuseppe Tatarella di Cerignola. La polizia ha fatto tutti i rilievi del caso per stabilire responsabilità e colpe di un incidente che poteva trasformarsi in tragedia.